Un nuovo centro antiviolenza e 10 sportelli apriranno nel 2020 in Piemonte. E' la risposta che la Regione dà la maggior richiesta di assistenza arrivata ai 20 centri e ai 66 sportelli presenti attualmente sul territorio. Sono state 3.455 le donne che nel 2018 hanno contattato i centri regionali, il 55% dell'area metropolitana di Torino. E' partendo da questi dati che la consulta femminile del Consiglio regionale del Piemonte si è riunita il 27 novembre a Palazzo Lascaris per fare il punto della situazione e per interrogarsi su quali possono essere i prossimi passi da compiere. I centri antiviolenza sono punti di ascolto e luoghi di accoglienza per le donne e i loro figli minorenni che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia in ogni sua forma. Finito il 25 novembre, finito il momento delle celebrazioni, le donne ripartono subito a lavorare, partono a lavorare sulle normative, sulle strutture, su tutto quello che può servire a contrastare la violenza di genere e anche attenuare gli effetti negativi quando questa sia avvenuta. Nel 2019 la Regione ha messo a disposizione 200.000 euro che si sono sommati al 1.200.000 delle risorse nazionali.